Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video! Oggi sono qui per parlarvi di un caso che, come al solito, ho ritrovato nella mia agenda, in quanto qualcuna di voi me l'ha richiesto. In questo caso c'è amore, c'è tanto, tanto amore, ma c'è anche tanta gelosia, ma soprattutto c'è vendetta. E, tra l'altro, questo è un caso italiano per la vostra gioia, me li richiedete in continuazione i casi italiani, quindi eccoci qua. Questo è un caso che io non ricordavo fosse avvenuto, ho cercato solo un nome su Google, ossia Chiara Alessandri, che è di fatto la protagonista di questo caso, ed è uscito fuori il mondo. Tutti gli articoli, però, ho notato che si concentrano sul letto delittuoso in sé, ed è in effetti complicato trovare ulteriori informazioni. Ma questa storia mi ha incuriosita così tanto che mi ha portata ad approfondire il più possibile questo caso. Spero che questo video vi piaccia. Iniziamo a dare un luogo a questa vicenda, siamo a Gorlago, un comune di 5192 abitanti in provincia di Bergamo, in Lombardia. La protagonista di questo caso, come già vi ho detto poco fa, si chiama Chiara Alessandri. Ma c'è un'altra protagonista nella nostra storia, e si chiama Stefania Crotti. Stefania ha frequentato ragioneria, e al terzo anno di liceo si è fidanzata con Stefano Del Bello, un suo compagno di scuola. Più precisamente, la scintilla tra Stefano e Stefania era scattata durante una gita scolastica, e pare fossero davvero perfetti per stare insieme. Una coppia perfetta che resta fidanzata per anni, fino al 2002, per poi fare il grande passo. Quel passo che per molti è inevitabile. Stefano e Stefania si sposano. Poi si stabiliscono in una casa, in via Facchinetti, a Gorlago. Torniamo un attimino a mettere il focus sul posto in cui ci troviamo, perché credo sia importante. Gorlago non è una metropoli, vuol dire che tutti si conoscono, e in effetti tutti conoscono Stefano e Stefania. Vivono lì per anni, infatti Stefania inizia immediatamente a lavorare come impiegata alla PMG. Un'azienda che produce materiali di gomma, mentre Stefano è impiegato in un'azienda del settore elettrotecnico. Nel 2011 la famiglia si allarga, perché Stefano e Stefania mettono al mondo una bambina. Così la quotidianità di Stefania si assesta in un certo senso. Si divide tra figlia, lavoro e l'appuntamento in palestra. Ogni non è di sera, con una sua amica e una sua cugina. Dall'altra parte del paese, in via San Rocco, abita Chiara Alessandri. È nata a Ro, ha tre figli ed è separata dal marito. Il suo matrimonio era andato in crisi quando suo marito era rimasto invalido, cadendo a me da una scala. Chiara inizialmente gli era stata vicina. Lo aveva accudito e lo aveva aiutato in tutto e per tutto. Col tempo però l'amore era decisamente iniziato a scemare. E Chiara non ce la faceva più a star vicino a quell'uomo, per cui non provava più alcun sentimento. Ecco come il matrimonio di Chiara era arrivato al capolinea. Quindi a giorni alterni vive nella casa coniugale con i bimbi, mentre negli altri giorni va a stare a casa di sua madre, in via Monte Ortigara. Anche lei ha un diploma in ragioneria, ma è disoccupata. Fa la rappresentante di classe ed ha una mano in parrocchia. In paese si dice che Chiara abbia una personalità davvero molto forte, la descrivono come una vera leader. Difficilmente si intimorisce, affronta tutte le situazioni di difficoltà con grande forza. Anche se la vita è stata tutto fuorché semplice o felice per lei. Per Chiara il periodo scolastico è stato un vero e proprio disastro. Ha perso suo fratello a causa di un suicidio. Suo padre è venuto a mancare quando lei era ancora molto giovane. E suo marito, come già vi ho detto, è diventato invalido a seguito di un incidente. Chiara però, nonostante ciò, ha un carattere giocoso ed è una donna espansiva. Ama stare al centro dell'attenzione, soprattutto degli uomini. Un'amica la descrive come una persona molto esuberante, un po' manipolatrice, ma soprattutto la descrive come una seduttrice. Chiara, Stefania e Stefano si conoscono di vista, in quanto i figli frequentano la stessa scuola e inoltre sono anche amici su Facebook. E infatti capita spesso che si commentino avvicendo i post. Sembra che tutto vada per il meglio, però poi improvvisamente nella primavera del 2018 cambia qualcosa. La coppia entra in crisi e Stefano si trasferisce in un'altra casa, in zona castello. Si avvicina dunque a Chiara Alessandri e inizia una relazione con lei. La loro relazione inizia a marzo e già Chiara a giugno inizia a vivere saltuariamente a casa di Stefano. Il 20 luglio Chiara pubblica una foto su Facebook con Stefano. Questo vuol dire che la relazione non è assolutamente tenuta segreta. Anzi, i due sono ad un concerto di Fabrizio Moro. E Chiara, nella descrizione della foto, scrive quando in fondo l'eternità per me sei tu. Chiara è molto presa da Stefano, si lega immediatamente a lui e inoltre nutre delle speranze non indifferenti per quell'amore appena nato. Alle amiche Chiara racconta che vorrebbe andare a vivere a casa di sua mamma con Stefano. Ma Chiara non si sarebbe mica tenuta la madre in casa. Assolutamente no. Chiara infatti ha pensato di piazzare sua madre in una casa di riposo col fine di avere la casa tutta per sé e per la sua nuova fiamma. Qualche giorno prima del 20 luglio Stefania, su Facebook, aveva pubblicato una foto in cui era da sola al mare con la figlia. Ma anche lei in effetti aveva conosciuto un altro uomo di nome Mario. Però ben presto succede qualcosa perché a fine luglio Stefano fa un passo indietro. Dice Chiara che ci ha ripensato, lui vuole tornare da sua moglie. Vuole provare a tornare con sua moglie. Ma è ovvio, Chiara non accetta minimamente la cosa. Non le va assolutamente giù questa storia. E infatti arriva a mandare un messaggio audio a Stefano su WhatsApp parecchio lungo e a mio avviso già parecchio preoccupante. Ve lo leggo e proverò anche ad utilizzare il suo stesso tono. Chiara dice Stefano, stai esagerando. Vuoi fare il bastardo a tutti i costi perché mi vuoi dimostrare che sei capace? Lo stai facendo con la persona sbagliata. Non mi sembra che hai fatto tanto il bastardo con lei quando ha fatto quello che ti ha fatto. E qui io non ho capito a che cosa esattamente Chiara si rifegisse. Ma proseguiamo. O quando recentemente ti sei accorto che ti ha manovrato la figlia. Anche qui quando sentivo queste cose dicevo ma in che senso gli ha manovrato la figlia? Continuiamo. Non mi sembra che con lei hai fatto il bastardo ma va bene la vita è la tua. Però tu per cortesia mi affronti anche solo per tutto il mare che mi hai fatto. Mi dici Chiara sei una merda perché hai fatto questo, questo, questo e me lo dimostri. T'ho spiegato perché non ti ho detto niente. Ti aspettavo che fossi tu a capirlo col tuo cervello. E quando hai avuto dei dubbi ho detto Ah, meno male che forse lo riesci a capire. Ma in realtà non l'hai capito. Ma sai che ti dico? Credi a lei? Va bene. Ti ha partorito la figlia? Va bene. Devi andare con lei ai mercatini di Natale? Va bene. Rovinati la vita. È la tua. La mia? Me l'hai già rovinata. Va bene. Non mi fiderò più di nessuno per colpa tua. Ma sono cazzi miei così come saranno cazzi tuoi la vita che farai, che ti farà fare. Va bene? Goditela adesso eh che vedi tutto rosa. Ma mi affronti per favore. Mi affronti e mi dici cosa ti ho fatto. Mi dai la possibilità di dirti Stefano ma come diamine fai a credere alle parole di una persona di me? Ma proprio tu che mi hai sempre messo in guardia? Come diavolo puoi pensare che io vado in giro a dire che io e te stiamo ancora insieme? E qui arriva la spiegazione per cui in teoria Stefano si è allontanato da Chiara. Se la donna con cui hai avuto una relazione extracognugale va in giro per il paese a dire che state ancora fidanzati mentre tu con tua moglie stai affrontando una terapia di coppia direi che non è proprio il massimo della vita. Ma proseguiamo. Ma dai ma come fai a credere a queste cose? Io e te ancora insieme? Secondo te lo vado in giro a dire in paese? Comunque se tu non mi affronti questa settimana te ne vai fuori dalle balle e dal modulo eh? E qui si riferisce a una questione scolastica. Infatti continua. Ti inventi una scusa con le tue mamme, fate la votazione un'altra volta, chiediamo la procedura esatta qual è e te ne vai fuori dalle palle. Questo vuol dire che Chiara vuole cacciare Stefano perché probabilmente anche lui è un rappresentante scolastico. Perché tu non mi vuoi affrontare e in questo modo non mi affronti neanche a scuola? E va bene, se fai così però te ne vai anche dal comitato. Non vuoi farlo perché la legge ti permette di non cedere ai miei obblighi? Va bene, lo faccio io. Lo faccio io. E ricordati che il comitato scolastico resta nella merda se io me ne vado. Ricordatelo bene. E io le mie spiegazioni tranquillo che le do. Io non invento scuse, né con il comitato, né con le mie mamme. Do le esatte spiegazioni, va bene? Perché mi hai conosciuto, non hai mai avuto dei dubbi su di me, se ti tradivo o meno. E non ti ho mai tradito sotto altre forme. Quindi mi affronti e la smetti di bloccarmi come un bambino dell'asilo. Se non mi vuoi affrontare ti voglio fuori dalle palle, o tu o io. Dopo questo frizzantissimo vocale, Chiara non contenta, continua a cercare Stefano. Diventa davvero ossessiva dai livelli preoccupanti. Tanto che Stefano ad un certo punto cambia proprio numero. In quanto Chiara era arrivata a mandare dei messaggi sul telefono di Stefano, in cui parlava male di sua moglie Stefania. La chiamava con nomi terribili come la puttana. O ancora Chiara scriveva direttamente sul telefono di Stefania. Uno dei tanti messaggi recita così. Se è una falsa, Stefano cambierà idea quando saprà che lo tradisci. Questa cosa chiaramente non è vera. Stefania non sta tradendo Stefano. Anzi, la vita per Stefania e Stefano rincomincia ad essere in effetti una vita di coppia a tutto tondo. Decidono quindi di andare da un terapista al centro zelinda di Trescore. Proprio col fine di migliorare il loro rapporto. Poi insieme vanno da un tatuatore. E Stefano si tatua sull'avambraccio, se non erro, liberi di sbagliare, liberi di rincominciare. E questa è una citazione di una canzone di Vasco Rossi che si intitola I soliti. Qual è stato lo sbaglio di Stefano? Avere una relazione con Chiara. Stefania invece sul polso si fa tatuare Believe, ossia ci credo. Quello è chiaramente un tatuaggio di coppia. In paese ovviamente Chiara dice che va tutto bene, che non ci sono problemi. Ha accettato la situazione, lui è tornato con sua moglie e pazienza. Il punto è che mente, mente tutto il tempo. In realtà Chiara non accetta affatto che Stefano sia tornato con la sua ex moglie. Anche perché ora Stefano ha alzato un muro nei suoi confronti. Non la calcola minimamente e Stefania dal canto suo fa lo stesso. Ogni volta che Chiara cerca di parlarle per chiarire la situazione, la donna lo evita. Le dice che non c'è nulla da chiarire, le chiede di lasciarla stare, non vuole proprio rivolgerle parola. E ovviamente Chiara vede il comportamento di Stefania come un affronto. E pensa, ma come si permette questa non rivolgermi neanche la parola? Dopo la relazione con Stefano, peraltro, Chiara ha altre due relazioni. Con altri due uomini diversi. Però queste relazioni hanno vita breve, durano pochi mesi. Probabilmente il fine di Chiara era quello di fare ingelosire Stefano, che però non la calcola minimamente. Arriva Natale del 2018 e ormai pare che la situazione si sia stabilizzata. Quanto meno Stefano e Stefania sono tornati insieme, vanno d'amore d'accordo. La terapia di coppia sta funzionando, ci sono benefici e Stefano e Stefania sono sempre più uniti. E infatti Stefania su Facebook il 26 dicembre scrive Con questo freddo non bastano i maglioni e le sciarpe, ci vogliono gli abbracci. Nel frattempo Chiara a casa sua com'è un'enorme frustrazione. In quanto, ascoltate bene, è convinta che Stefano non la saluti più per colpa di Stefania. Quindi è la moglie di Stefano il suo problema, Stefania. Chiara pensa che sicuramente Stefania ha imposto a Stefano di starle lontana. Gli ha detto di allontanarsi da lei e di non darle più alcuna confidenza. Il punto è che tutti questi pensieri di Chiara non hanno né capo né coda. È assurdo pensare che Stefania, una donna di 40 anni suonati, abbia obbligato Stefano, un uomo di 40 anni suonati, a non parlare più con Chiara. All'emite Stefano che ha preso una sua decisione con la sua cervello e ha detto No, io mi voglio allontanare da quella donna. Punto. Non ci voglio più avere niente a che fare. È troppo facile così cercare sempre il capo espiatorio e pensare sempre che la colpa sia degli altri. Quindi, troppo facile. Arriva la mattina di giovedì 17 gennaio 2019. Stefano porta la bambina a scuola mentre Stefania prepara un termos e dei cracker per la sua pausa pranzo. Indossa un maglione a quello alto, dei pantaloni neri, un giubbino lungo fino al ginocchio e una sciarpa color nocciola. Come tutte le mattine esce di casa per andare a lavorare alla PMG. Alle 15.45 Stefania esce dall'ufficio, saluta i suoi colleghi e saluta il nipote del titolare che in quel momento è lì presente. Poi esce da quell'azienda e sparisce nel nulla. Sono le 18 quando Stefano, preoccupato, inizia a chiamare insistentemente sua moglie perché non la vede tornare a casa ed è una cosa molto, molto strana. Anche perché lui stesso lo dice. Solitamente se Stefania ritardava anche di un quarto d'ora era solita mandare un messaggio, avvisare comunque della situazione. Oltre a ciò Stefano prova a chiamare Stefania ma il suo telefono squila vuoto e per questo che decide di recarsi sul suo luogo di lavoro. E in effetti la macchina di Stefania la trova, è ancora lì, nel posteggio della ditta. Stefano quindi decide di entrare in azienda per fare qualche domanda alle colleghe di Stefania. L'uomo spiega che Stefania non è ancora tornata a casa e la sua macchina è ancora lì, fuori, nel parcheggio della ditta. Hanno idea di dove sia sua moglie? L'hanno vista andare via per caso con qualcuno di sospetto? Una collega di Stefania gli risponde, ma va, Steffi è uscita al solito orario, intorno alle 15.30. I colleghi di Stefania però in effetti non hanno visto con i loro occhi la donna salire a bordo della sua macchina per partire e tornare a casa. L'hanno solo vista uscire dall'azienda. Stefano a questo punto è confuso, inizia a fare un giro di telefonate a più amici per sapere se per caso qualcuno ha visto sua moglie. E alla fine tra una conversazione e l'altra arriva a chiamare un suo amico che fa il poliziotto. Questo amico dice a Stefano che il modo migliore di agire in questo caso è andare a fare una denuncia di scomparsa. Così Stefano per le 19 va dai carabinieri che lo tengono lì fino a mezzanotte. Gli fanno un sacco di domande anche perché l'ultima cella che ha agganciato il cellulare di Stefania dista appena 300 metri da casa sua. E solitamente in questi casi non è quasi sempre colpa del marito? Inizialmente gli inquirenti dubitano fortemente di Stefano. La verità però è totalmente diversa e tutto in realtà inizia con una trappola. Per raccontarvela dobbiamo fare un passettino indietro. È venerdì 4 gennaio e Chiara Alessandri si mette in contatto con un suo amico di nome Angelo, un piccolo imprenditore di seriate mandandogli un messaggio audio dalla durata di 5 minuti. La donna gli dice, ciao, buongiorno, allora ti spiego un pochino quello che mi serve. È però premetto anche che ho pensato di chiederlo a te perché so che hai il furgone, so che comunque col tuo lavoro ti puoi muovere insomma abbastanza liberamente con gli orari, ma anche perché sì, piacerebbe anche a me rivederti e fare quattro chiacchiere. Insomma diciamo che da quando non ci frequentiamo più, quindi da fine febbraio, prime di marzo, mi sono successe tante, tante cose, alcune piacevoli, alcune molto, molto meno. Non sto passando un bel momento, anche se qui ho stessimi problemi di salute non ce ne sono, eh. Tranquillo, qui siamo tutti in salute, mia mamma un po' meno. Però ecco diciamo che non sto passando un bel momento e sicuramente rivedere una persona a cui ho voluto bene, chi mi ha voluto bene, mi farebbe piacere. E qui, leggendo questa prima parte di audio, ma anche ascoltandolo, questo audio, ho avuto l'impressione di sentire parlare una grandissima manipolatrice, perché se ci fate caso, prima parla solo della sua situazione, di come sta, gli dice che gli farebbe piacere rivederlo e infatti poi continua e gli dice Ma a monte di questo, allora ti spiego il favore che mi serve. Qui chiaramente un lapsus si sbaglia, ma si corregge abbastanza velocemente per non destare i sospetti quantomeno in angelo. L'ideale è la prossima settimana, però se tu mi dici che la prossima settimana non ci sei, ma mi dici, però te lo posso fare la settimana dopo, a me va più che bene. Allora, io voglio aiutare un mio amico che deve fare una cosa per la sua ex moglie, che adesso sta tornando ad essere la sua attuale compagna. Allora, io ho bisogno che tu, un pomeriggio, alle 3, 3 e un quarto, non oltre, ti faccia trovare qui, a Gorlago. Raggiungiamo insieme un posto a Trescore con il furgone e in questo posto a Trescore, alle 3, 3 e mezza, uscirà una persona dal lavoro. Una donna, diciamo una mia amica, diciamo così, io sarò sul furgone, ma lei non mi vedrà, perché io sarò nascosta dietro. Tu dovrai farla salire sul furgone e le dovrai spiegare perché sei lì, ok? Perché ti manda suo marito a prenderla. Le ha preparato una piccola sorpresa. Quindi dovrà lasciare lì la macchina di salire sul furgone con te e andare dove suo marito vuole che lei vada, ok? Il posto in questione è a Gorlago. Ecco, più precisamente, a casa mia. Perché lui, prima di fare un passo con lei, vorrebbe che io e lei facessimo pace perché ormai siamo in rotta da un anno. Non so io che cosa voglia chiederle. Non so se voglia chiederle di sposarsi un'altra volta oppure di fare una seconda luna di miele. Insomma, una roba del genere. Lui non me lo vuole dire neanche a me. Insomma, vuole proprio che sia una sorpresa. Però, ecco, lui ci tiene molto che io e lei ci chiariamo. Quindi vorrebbe che, un po' costretta, venisse a casa mia di modo che io e lei ci chiariamo sul più bello, spunta il marito e le dice così, insomma. È necessario essere a Gorlago per le tre a un quarto e non oltre perché poi dobbiamo andare a triscore e questa qua esce proprio alle tre e mezza puntuali. Dobbiamo prenderla, portarla qui da me. Quindi un quarto alle quattro avresti finito e per le quattro saresti asseriate. Io dovrò essere presente sul furgone. Perché? Perché lei ad un certo punto capirà che tu la stai portando a casa mia. Vedrà la strada. E dunque può darsi che dirà No, no, io non vengo. E quindi a quel punto intervengo io da dietro e le dico Vieni perché è giusto che sai alcune cose per favore vieni e quando abbiamo finito, insomma, capirai. Vedrai che capirai. Ok? Chiara a questo punto fa un attimino di pausa Sembra che stia riflettendo Poi aggiunge E a dirla tutta L'ideale sarebbe che questo viaggetto se lo facesse bendata così non sa e almeno non si ribella perché io poi ho il compito che quando lei arriva devo accendere la musica eccetera eccetera Quindi ecco se accetta di bendarsi gli occhi per la sorpresa va bene se invece dice no non mi voglio bendare guarda va bene così non insistere e così praticamente mi serviresti di fare da chauffeur mi serve un uomo bella presenza insomma gentile e tutto quanto è così fammi sapere se mi puoi aiutare Angelo l'amico di Chiara non ha nessun buon motivo per insospettirsi conosce la donna che le è stata molto vicino dopo la morte di sua madre ecco perché Angelo accetta successivamente manda un altro messaggio audio ad Angelo dicendo ascolta se non si vuole bendare non si fa niente giovedì 17 gennaio come promesso Angelo si presenta fuori dalla ditta di Stefania ha in mano una rosa rossa e un biglietto con scritto ti amo inizialmente Stefania restia non si fida appena apre quel biglietto capisce che la calligrafia non è di suo marito anche se è molto simile quando però Angelo sostiene di lavorare nella stessa azienda in cui lavora suo marito la donna abbassa le difese Angelo infatti le dice che in realtà quella è una sorpresa che le ha organizzato proprio suo marito Stefano quello che quindi Stefania deve fare è salire sul furgone farsi bendare con una sciarpa e farsi portare dal suo marito che le ha organizzato questa sorpresa e qui molti di voi potrebbero pensare ma scusami Silvia mi stai dicendo che Stefania sale sul furgone di uno sconosciuto con così tanta semplicità Stefania quindi è stata molto ingenua a fidarsi di Angelo in realtà dobbiamo ricordarci che Stefania e Stefano stanno affrontando una terapia di coppia e spesso e volentieri il terapista dà dei compiti da fare ad entrambi proprio col fine di recuperare il rapporto quindi Stefania potrebbe aver pensato che quella fosse davvero una sorpresa del marito prescritta proprio dal terapista che li segue Stefania quindi si convince quella è una sorpresa meravigliosa che gli ha organizzato suo marito è curiosa è felice ed è per questo motivo che sale sul furgone di Angelo senza protestare il furgone parte Stefania è bendata e Angelo e Angelo fa partire una canzone di Giorgia è così che Stefania si calma completamente in realtà è solo curiosa non vede l'ora di vedere la sorpresa che le ha organizzato suo marito il viaggio si svolge in rigoroso silenzio e Chiara non è mica sul furgone con Angelo e Stefania bensì è già a casa sua nel suo garage ed è lì che la sta aspettando Angelo quindi consegna a Chiara Stefania ancora bendata che la conduce nel suo garage e poi semplicemente se ne va tornando alla sua vita come se nulla fosse anzi a dirla tutta si sente anche un po' un cupido alle 17.50 del 17 gennaio Chiara manda un altro messaggio vocale ad Angelo è molto più corto dei precedenti e dice oi tutto a posto più o meno abbiamo risolto adesso vediamo nei prossimi giorni ti è rimasta la rosa giusto? niente tira via il biglietto buttalo via e regala alla tua donna è andato tutto bene ok? grazie e ciao arriva il giorno seguente il 18 gennaio sono le 16.30 quando un ciclista passando da Adro più precisamente da Erbusco in una zona boscosa trova ahimè i resti di un corpo carbonizzato quello ahimè è il corpo della povera Stefania ma manca qualcosa la sua borsa con all'interno i suoi effetti personali è sparita nel nulla non si trova passa qualche giorno e Angelo si ritrova a scorrere la vacheca di Facebook tranquillamente ed è proprio lì scorrendo nella home di Facebook che Angelo legge un messaggio che gli fa gelare il sangue infatti Angelo si rende conto che un tizio di nome Stefano del Bello ha appena lanciato un appello tramite un post pubblico sta cercando sua moglie Stefania madre di una bambina di 7 anni scomparse ormai da qualche giorno il post è accompagnato da una fotografia di Stefania Angelo a questo punto inizia a sudare freddo perché quella Stefania madre di una bambina di 7 anni lui la riconosce subito è quella donna che lui stesso ha accompagnato col suo furgone da un'amica Chiara Alessandri Angelo quindi cerca di capire quando è stata l'ultima volta che è stata vista Stefania e quando si rende conto che è stata vista l'ultima volta proprio il giorno in cui ha fatto quella sorpresa con l'aiuto di Chiara corre immediatamente dai carabinieri senza pensarci due volte Angelo dice ai carabinieri di conoscere la donna scomparsa Stefania l'ha portato lui stesso presso il garage di Chiara Alessandri una sua ex fiamma che per l'appunto le ha chiesto questo favore quale favore? ebbene Angelo ha fatto un favore col fine di aiutare Chiara ad organizzare una festa sorpresa per Stefania ideata da suo marito Stefano Angelo sa che c'è qualcosa che non va ma non riesce ancora a vedere Chiara come una carnefice lui l'ha conosciuto in un periodo della sua vita molto molto difficile infatti nel 2017 aveva perso sua madre Chiara gli era stata davvero molto molto vicina così vicina che alla fine i due hanno anche avuto una breve relazione Angelo però più pensa a quella storia più inizia ad avere dei dubbi quindi decide di mostrare ai carabinieri tutti i messaggi che si sono scambiati lui e Chiara compresi i vocali quindi Angelo soprattutto e l'autorità fa sentire quel vocale dalla durata di 5 minuti in cui Chiara illustrava per l'appunto ad Angelo come comportarsi per portare a termine la sorpresa a Stefania Chiara infatti alla fine dice una volta che entriamo io abbasso la saracinesca del garage tu fai manovra e poi vai Angelo ahimè questa indicazione l'ha seguita alla lettera Chiara quindi conduce Stefania sempre bendata nel suo garage mentre Angelo si allontana e riparte col suo furgone per gli inquirenti ecco che si palesa una pista da seguire e la persona sotto la loro lente di ingrandimento ovviamente è Chiara Alessandri ma all'interno di quel garage in realtà cosa diavolo è successo? ebbene Chiara purtroppo aggredisce Stefania appena si toglie la benda la colpisce con un martello per 4 volte in testa con violenza siamo tra le 16.30 e le 17 e la vicina di casa di Chiara sostiene di aver sentito un urlo agghiacciante provenire dal suo garage ennesima domanda che mi sorge perché la vicina di casa non ha chiamato le autorità? io non l'ho capito in quanto lei non ha mai detto nulla a riguardo e a dirla tutta non gliel'hanno neanche chiesto come mai non ha chiamato le autorità ma ha ammesso di essersi spaventata tantissimo quando ha udito quell'urlo ora Stefania nel garage dichiara a terra ma non è ancora senza vita la stessa di Chiara sostiene di aver percepito un battito molto debole quando le ha toccato il polso poi però dopo qualche minuto Chiara non sente più alcun battito quindi carica il corpo della povera Stefania nel bagagliaio della sua macchina una Mercedes grigia classe B e la copre con una coperta dei vestiti nello stesso bagagliaio Chiara butta anche l'arma del delitto ossia il martello che chiaramente assopra le sue impronte digitali ma non è finita qui perché nel bagagliaio c'è anche una tannica di benzina intanto a Gorlago è sceso il buio quindi Chiara decide di muoversi deve assolutamente sbarazzarsi del corpo di Stefania alle 17.49 è ancora in paese in quanto manda quel messaggio vocale ad Angelo per dire che la sorpresa è andata tutta a posto che è andata tutta a meraviglia che hanno chiarito insomma la sorpresa è riuscita quando Chiara manda questo messaggio ad Angelo aggancia una cella presente proprio a Gorlago alle 17.53 le telecamere di sorveglianza del comune di Gorlago riprendono la macchina di Chiara che si allontana dal paese 6 minuti più tardi alle 17.59 il suo cellulare aggancia la cella di Grumello del Monte in direzione di Rovato verso Brescia poi Chiara spegne il cellulare ma il suo viaggio prosegue alle 18.35 la riprendono le telecamere di Rovato nei pressi di Adro Chiara lascia l'autostrada si dirige verso una zona boschiva e proprio lì elimina il corpo di Stefania ma non solo Chiara sostiene che ha abbandonato lì anche l'arma del delitto ossia il martello e una tenaglia li cosparge di benzina e l'incendia e a questo punto gli inquirenti credono che Chiara abbia anche bruciato la borsa di Stefania una O-Bag in plastica grigia con una pelliccia sintetica ciò che mi sono chiesta io però è la O-Bag non ha delle zip delle cerniere il martello usato come arma per colpire non è fatto sia di legno che di ferro come è possibile che non ci siano traccia dei resti di questi oggetti sul luogo del delitto c'è qualcosa che non torna qui la farsa è conclusa per Chiara ora la festa è finita e deve cancellare le sue tracce è così che il giorno dopo il delitto alle 16.15 si dirige presso un autolavaggio a Gorlago e fa lavare la macchina in modo meticoloso sia all'interno che all'esterno quando dei dipendenti si occupano degli interni della macchina Chiara ovviamente deve scendere e una telecamera riprende ogni suo movimento è agitata sempre al telefono cammina nervosa lì nel parcheggio ma soprattutto osserva con attenzione come i dipendenti le stanno pulendo la macchina specialmente quando si occupano del bagagliaio insomma quando si occupano del bagagliaio Chiara si avvicina proprio osserva quello che stanno facendo e quando l'uomo si allontana perché ha finito di pulire il bagagliaio Chiara mette le mani nel bagagliaio per capire se magari c'è qualcosa che non va insomma è chiaro che lo stia controllando sono le 16.30 di venerdì 18 gennaio ed è proprio in questi minuti che un ciclista ha trovato il corpo che poi si rivelerà essere della povera Stefania nei boschi di Erbusco Chiara fa lavare la macchina per un'ora esatta poi paga 15 euro e se ne va i carabinieri a questo punto come già vi ho detto hanno la lente di ingrandimento puntata su Chiara perché Angelo il suo amico e complice inconsapevole è volato dalla polizia per far sentire tutti gli audio e per raccontare la sua versione dei fatti i carabinieri quindi fanno un altro passo decidono di convocare in caserma sia Angelo che Chiara quindi ecco che i due si ritrovano insieme nella sala d'attesa della caserma dei carabinieri insieme a loro c'è l'occhio e l'orecchio degli inquirenti che li osservano e li ascoltano tramite una cimice prima di interrogare entrambi potrebbero tradirsi potrebbero parlare e dire qualcosa in più potrebbero dire qualcosa di essenziale per le loro indagini è così che Chiara inizia a parlare con Angelo si scusa della situazione in cui si trovano e gli spiega che lei davvero voleva solo parlare con Stefania in quanto la donna la evitava Chiara dice queste esatte parole ad Angelo quando incontravo Stefania le chiedevo possiamo fare due parole non mi rispondeva neanche volevo solo l'amicizia di lui lui che mi ha messo un muro mi ha lasciata male in un brutto modo eppure mi diceva che ci sarebbe sempre stato per me mi diceva che sarebbe sempre stato un amico e tutte queste cose qua e invece credo che lei gli abbia imposto di basta non la calcolare più quindi ho tentato in ogni modo quando la incrociavo in giro di parlarle le dicevo per favore possiamo io volevo solo dirle guarda Stefano non mi interessa più ovviamente non è vero questa è una bugia ma lei avrei detto così Angelo il suo amico l'ascolta in silenzio quindi Chiara credendo di avercelo in pugno prova a fargli un'ennesima richiesta in quella sala d'attesa chiede se per caso può dire agli inquirenti di aver visto Stefania uscire viva dal suo veraggio in quanto le autorità le stanno addosso credono che sia colpevole Angelo però non si fa più raggirare da Chiara il suo racconto non l'ha assolutamente convinto anzi al contrario l'ha raggelato la sua risposta è cristallina coincisa dice un secco no Chiara inoltre rimproverà Angelo e gli chiede perché non ha cancellato tutti i messaggi che si sono scambiati Angelo a questo punto la guarda e gli risponde Chiara io non sapevo di dovergli eliminare quegli audio tu non mi hai detto niente a questo punto Angelo viene chiamato dai carabinieri per un interrogatorio ed è chiaro che nonostante abbia avuto un ruolo centrale in quel piano sia totalmente estraneo ai fatti Angelo è libero di andare anche se rimarrà sempre con rimorso di aver partecipato a quel terribile piano di Chiara pur inconsapevolmente quel piano che alla fine ha portato alla morte di Stefania per Chiara invece la situazione inizia a farsi problematica il suo complice inconsapevole le ha voltato le spalle ed è uscito dalla caserma come uomo libero ed ora tocca a lei essere interrogata inizialmente Chiara mente dice di non centrare nulla con la faccenda gli inquirenti però indagano analizzano la sua auto e ben presto trovano nel bagagliaio una traccia di sangue che si rivelerà di Stefania quella pulizia così meticolosa del veicolo dunque non è bastata a depistare le indagini degli inquirenti che a questo punto hanno diversi indizi che inchiodano Chiara ecco perché in un secondo momento confessa Chiara dice che è vero Stefania è morta ed è in effetti morta con lei ma in realtà si è trattato solo di un tragico incidente Chiara spiega che è vero in effetti ha attirato Stefania nel garage ma solo perché voleva chiedere con lei insomma aveva bisogno di spiegarsi Chiara dice nel garage è nata una discussione Stefania voleva chiamare immediatamente suo marito poi ha afferrato un martello lì vicino e ha provato a colpirmi mi sono solo difesa e mi sono anche finita ad un braccio spingendo Stefania contro la lavanderia dove ha sbattuto la tempia non ricordo se quella a destra o quella a sinistra accasciandosi a terra ho sentito un battito debolissimo così ho pulito il garage del sangue con la candeggina ho caricato il corpo di Stefania in macchina e sono partita per Erbusco Erbusco è il luogo in cui ahimè è stata trovata la povera Stefania il giorno prima del delitto quindi mercoledì 16 gennaio Chiara peraltro ha mandato un messaggio ad un suo vecchio compagno di classe di quelle zone proprio per giustificare la sua presenza nei dintorni di Erbusco ha mandato quel messaggio per tentare di costruirsi un alibi e per non testare sospetti probabilmente è andato in quelle zone proprio per cercare un posto dove lasciare la povera Stefania Chiara continua a raccontare ho lasciato il corpo di Stefania tra i campi con sopra dei vestiti ma di certo non le ho dato fuoco sì è vero c'è una tecnica di benzina nella mia macchina ma la tengo perché temo di rimanere a piedi poi ho spedito le chiavi di casa e della macchina di Stefania con un biglietto a Stefano con scritto non tornerò ma mi farò sentire sono con chi amo ovviamente questo è un piano che Chiara ha organizzato meticolosamente facendo però diversi errori e lasciando diverse tracce un errore lampante è sicuramente quello di non spegnere il telefono di Stefania a suo ritorno a Gorlago l'ha lasciato suonare per tanto troppo tempo tanto che quel telefono cristallizza il viaggio che Chiara ha compiuto per tornare in paese un altro errore da non sottovalutare quello di mettere in mezzo un'ennesima persona che non sa nulla ed è pure in buona fede ma qualsiasi persona che compie un favore del genere ad un'amica e poi scopre che la donna che ha trasportato è sparita come può non precipitarsi dai carabinieri per raccontare la sua versione dei fatti quel furgone è stato visto si è spostato non è diventato invisibile quindi probabilmente se Angelo non fosse andato dai carabinieri avrebbe potuto subire degli interrogatori molto ma molto più aggressivi se avesse tenuto nascosto quell'audio dalla durata di 5 minuti probabilmente gli inquirenti avrebbero dubitato anche di lui un ennesimo errore di Chiara a mio parere è quello di allegare alla rosa rossa un biglietto con scritto ti amo cercando di imitare la calligrafia di Stefano perché rischiare di insospettire Stefania con una calligrafia che è simile ma non corrisponde perfettamente col tempo Chiara continua ad essere irremovibile sulla sua versione è vero ha colpito Stefania Crotti con un martello ma l'ha fatto per autodifesa e inoltre lei il corpo della povera Stefania non l'ha bruciato però nel palmone di Stefania viene trovato del fumo questo significa che purtroppo questa donna quando è stata bruciata non era ancora venuta a mancare era solo incosciente a questo punto tutti a Gorlago iniziano a mormorare tutti conoscono Chiara anche lei è una mamma ha tre figli di cui peraltro uno disabile frequenta spesso la parrocchia ed è anche rappresentante di classe nella scuola dei suoi figli arriviamo al giugno del 2020 quando Chiara affronta il processo con il rito abbreviato e viene condannata a 30 anni di carcere per l'omicidio aggravato dalla premeditazione di Stefania Crotti secondo il giudice la donna in aula non si è dimostrata pentita in nessun modo per aver commesso quell'atto al contrario era troppo occupata a ripetere in continuazione che il suo in realtà non era un omicidio premeditato si era ritrovata in quella situazione e aveva dovuto difendersi è una donna manipolatrice calcolatrice ma nel suo piano è anche stata piuttosto goffa la sua goffaggine e le sue scelte sbagliate l'hanno portata dritta dritta nel carcere di Bergamo a mio parere oltre alla famiglia di Stefania questo caso ha altre tre vittime perché Chiara ha tre figli e il più grande all'epoca dei fatti aveva all'incirca 11 anni di fatto le ha abbandonati ha commesso quest'atto atroce assurdo senza neanche pensare alla sua vita alla sua famiglia ai suoi figli credo che sia terribile tutto ciò detto questo ragazzi ho finito di parlare in questo video fatemi sapere chiaramente se conoscevate questo caso e soprattutto fatemi sapere che cosa ne pensate di questo caso tramite un commento qui sotto noi ci vediamo prestissimo al prossimo video io vi mando un bacione mi raccomando fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ciao ragazze ciao ragazzi ciao ciao ciao